1, 2, 3 Che volete? La soppressata Azzò, proprio la soppressata La soppressata capi quello che è moro o merai? E cioccolate? L'avete, e caramelli, non è dopo stricare i caramelli Va bene Sìghese! E' un'altra cosa Vi voglio parlare Un'altra cosa Sìghese muost, suena Come? La Ràcies. No, no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.